Mimmo, complimenti, bella vittoria, grandissimo pubblico, una partita diametralmente opposta anche rispetto alle emozioni a quella vinta contro Sassari. Sì, sapevamo che era una partita difficilissima, quindi voglio dire abbiamo incontrato una squadra che anche se nuova lotterà per le prime posizioni della classifica perché è una società importante che vuole far bene, quindi oggi non era affatto facile, era il nostro esordio davanti al nostro grandissimo pubblico. Le ragazze sono state bravissime perché anche nei momenti di difficoltà non abbiamo mai mollato e alla fine abbiamo portato a casa una vittoria per noi fondamentale. Non ci piace parlare dell'arbitraggio però a un certo punto ha condizionato, non voglio dire la partita però, l'umore. Preferisco dare risalto alla grande prestazione della squadra, le ragazze sono state brave a tenere i nervi saldi anche e soprattutto nonostante la situazione falli che era per noi abbastanza difficile anche perché loro per ben due volte sono andati dopo appena due minuti, soprattutto al quarto quarto in bonus e quindi per noi non era facile perché per loro erano tutti tiri liberi. Per noi le ragazze sono state brave, abbiamo tenuto la calma e abbiamo portato a casa una vittoria meritata e importante.